buongiorno a tutti oggi vedremo una cosa un po desueta rispetto ai miei soliti tutorial vedremo cioè come gestire i motori di ricerca su chrome motori di ricerca per antonomaggia sapete che è google in genere google si mette sempre nella pagina iniziale però spesso per fare delle ricerche si apre direttamente una nuova pagina una nuova scheda qua e si comincia a digitare il risultato già qua nel della barra del browser vi sarà capitato che magari cercando una cosa che inizi con google per esempio facciamo google earth google earth ecco vedete viene la scritta cerca su google cioè la prima parte sparisce e verrà scritta cerca su google perché nei motori i motori di ricerca della barra degli indirizzi è impostato in un modo che non è sempre chiarissimo vediamo come risolvere questo piccolo problema si va sulle qui sul menu poi si va sulle impostazioni si scorre si scorrono le impostazioni e si va su motore di ricerca come vedete il motore di ricerca utilizzato nella barra nella barra degli indirizzi è google si può scegliere anche altri motori tra quelli predefiniti e quelli diciamo principali che sono bing yahoo e da da go si va però su gestisci i motori di ricerca ecco qui ci sono quelli definiti quindi il trade predefinito che è google e gli altri più importanti e poi google aggiunge altri motori di ricerca tutte le volte che noi facciamo delle ricerche in un sito per esempio facciamo una ricerca su youtube e chrome aggiunge anche youtube nel nei motori di ricerca facciamo una ricerca e quadrate quanti motori ha aggiunto nel nel mio chrome un sacco di motori a ebay com cioè ebay usa un sacco di motori a ebay.it a facebook firebase poi c'è anche questo motore aggiunto a google con la parola chiave google perché quello che vedete che ci sono tre tre colonne la prima è il nome del motore di ricerca la seconda è la parola chiave e la terza è l'url della carry di quello che si deve insomma impostare per fare la ricerca e per questa ragione che se io vado qua e digito google automaticamente la ricerca viene fatta su google con questa con questo url che se io quindi potrei impostare un diverso una diversa parola chiave chiamiamola vado qui su modifica invece di google metto che so g 123 faccio salva e a questo punto se io faccio una ricerca qua google earth come vedete me la fa effettivamente sempre su google ma non più come in precedenza che appunto utilizzava quel motore di ricerca personalizzato dunque tra i motori di ricerca personalizzati ha anche quello del mio sito per esempio compro la chiave ipc e i se io per esempio digito ipc e i ipc e i automaticamente mi cerca sul mio sito io posso digitarle una parola chiave e cerca sul mio sito i risultati questi sono l'elenco dei risultati sul mio sito della parola chiave che ho immesso e naturalmente si può creare un motore personalizzato anche per altri siti alcuni sono già presenti per esempio ci sono una ricerca su youtube l'ho vista prima eccola qua per esempio con la parola chiave youtube.com si può fare una ricerca direttamente su youtube quindi io digito youtube.com youtube.com vado sullo spazio e mi ricerca subito su youtube che so posso fare divertenti e mi cercherai i video divertenti su youtube dunque chiaramente si può rendere la parola chiave più semplici per esempio la ricerca su youtube si può cambiare la parola chiave si va su modifica invece si mette youtube.com possiamo mettere yts come prova chiave per renderla più semplice quindi io vado qua sul sulla barra di ricerca digito yts spazio e automaticamente mi cerca su youtube i video che so questo chiaramente può essere fatto per qualsiasi motore di ricerca i motori di ricerca che non servono possono essere eliminati e chiaramente possono essere aggiunti altri motori di ricerca si va su aggiungi dunque io mi posso creare anche un motore di ricerca personale a parte che in questo caso chrome me l'ha già creato perché per il mio sito me l'ha già creato come vi ho fatto vedere un motore di ricerca personale questo qua ma io me lo posso creare e magari per un per un altro sito per un altro servizio vado su aggiungi dunque ricordarsi questa sintassi quindi vado su aggiungi e da un nome al mio motore di ricerca che lo chiamo personale ci metto una parola chiave mio come url inserisco l'indirizzo del mio sito poi ci metto search e poi ci metto punto esclamativo q uguale percentuale s questa parte finale si aggiunge search punto interrogativo q uguale percentuale s si aggiunge all'indirizzo alla home page del sito su cui vogliamo fare delle ricerche si va su aggiungi dunque la parola chiave è mio quindi io digito mio poi vado sullo spazio automaticamente farà una ricerca su personale io digito una parola chiave su per ricercare sul mio sito vado su invio e qui mi metterà in ordine tutti i risultati sul mio sito che ha trovato con questa parola di ricerca ovviamente questo si può fare per qualsiasi sito anche non nostro ovviamente dunque è una cosa un po' che può avere anche un suo utilizzo chiaramente qui il motore di ricerca predefinito per la barra degli indirizzi è google ma si può cambiare io per esempio potrei mettere per esempio come motore di ricerca predefinito il mio quello personale vado qua imposta come predefinito verrà impostato come predefinito vedete e allora io se faccio la ricerca sul sulla barra degli indirizzi automaticamente mi troverà i risultati nel mio sito che so facciamo una ricerca video vado su invio ed ecco qua che mi fa vedere tutti i risultati che hanno come parola chiave video sul mio sito chiaramente mi conviene più mettere come predefinito google ma comunque questa possibilità è interessante chiaramente si possono creare motori di ricerca anche per per siti non nostri ovviamente per esempio per youtube per video di youtube eccetera per maggiori informazioni aprite il post di cui metterò l'indirizzo sotto il player del video alla prossima ecco qua ecco qua